Allora ragazzi ho battuto, battuto, proprio battuto il boss, il generale Tensei, Tensei, ok? Fatemi vedere che funzioni tutto. Il problema è che ho detto per gioco provo a fare la parte del serpente e sono arrivato a un punto dove posso parlare. Quindi non so se c'è un pezzo della storia o creperò come uno stronzo e quindi mi conviene tipo provare. Aspettate un attimo perché non ho capito se Twitch sta andando. Quindi se provo la faccio su Twitch in maniera tale che anche se va male non faccio nulla. Se va bene, se va bene quello che farò è la porterò semplicemente su YouTube. Quindi, allora, siamo qui. C'è questo serpentone, abbiamo trovato questa parte qua, tutta questa parte è portata fino a qui. Devo parlare ma dall'altra parte. Merda, quindi non devo parlare. Mi sono fregato nessuno. Oh, cazzo. Io pensavo di dove parlare, ero già fuori. Guarda qui, eh. Tac. Motto come uno stronzo. Motto come uno stronzo. Però, però, scusa, correggimi se sbaglio, Dragon, adesso senza fare i buffoni di corte. Però se faccio così, dovrei farcela. Perché c'è quella zona dove si sblocca tutto. Come... Eh, cioè... Se questa teoria dovesse funzionare, cosa che non sono convinto, è il secondo boss fight che ammazzo per... per peculiarità ambientale. Ma ti rendi conto? Già, mi sembra una cosa normale. Ma ti rendi conto? Nani? Nani? Salta, salta. Salta, salta, salta sin parar. Salta, 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 salta sin parar. Alcune! Chichiri chi che due coglioni. Vediamo po', minchia così. E ritorniamo nel piccolo cielo. È l'unica. Devi trollarla. L'amore è un astronauta anche in dei conti. Allora, stiamo qui. Aspettiamo che vi passi... sembra una cosa del trono di spazio ma in formato giapponese figa non vedo l'ora che parta l'ultima stagione ho praticamente deciso di non andare a Nueva York era troppo sbatti Angelo spendevo un casino e mi ammazzavo e facevo chicchiri chicche due maroni chicchiri chicche due coglioni mazzo via 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 ho sbagliato ho sbagliato Aragami Aragami ho sbagliato ecco questo è un errore che vi può far dover rifare tutto visto che ormai il maledetto Aragami dov'è il cicciolo? dov'è mi sta bombasti adesso mi aiuta ignorante ignorante con l'abbronzante mi piace la guerra così come fanno la guerra non c'è nessuno aragami cioè scusate scusate they is gone they is gone è esattamente non posso farlo cioè via via troia puttana Eva non ho beccannato la grande ma una funzione lagrangiana nello spazio cioè devo beccare devo trollarle al punto giusto ma poi vedete che la fialetta non mi dà neanche tutta l'energia ma sarà stronzo sto gioco oddio ho sbagliato però adesso ho trovato una tecnica per liberarmi dei puppets però il punto è è la tecnica del vile scusa il terzo key take away che potrebbe essere importante però ho un prezzo oltre la mia dignità chicchi di chicchi due coglioni ciao bottele bottele ascolta ascolta c'è lo mi chiamo fai lo gara lo fai con gara via 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 ciao chichi di chicchi due coglioni no me lo sto uccidendo me lo sto uccidendo no me lo sto uccidendo la voce con mobile l'inforo via 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 Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Però Gigi lì, nooo, si è sacrificato per me, Gigi, sooo, Gigi, sti cazzi, meglio lui a me, mi mancherai tantissimo, figa, meno male, vabbè adesso lo devo passare su YouTube, YouTube ho anch'io, Sekiro, mi ero dimenticato di dirlo, prima che mi porti sfiga, Sekiro. Sekiro, ma no, ma no, mi sta prendendo per il culo che ho. Sekiro. Miechia ragazzi, cioè pure io ce l'ho fatta, ti rendi conto? E' che quel che mi girano i coglioni, è che adesso Mattia dirà, eh figa vedi che ce l'hai fatta, quindi vuol dire che è più facile. Innanzitutto, mi migliori subito gli attributi fisici. E quindi ho ben mezzo centimetro in più di barra della vita. Chichi, chichi, due coglioni! Il figlio del gufo, ho avuto un'orrenda visione, stava traboccando sempre di più. Cazzo ragazzi, è una bella tecnica, adesso me la rivendo su YouTube. Non si fermava. Il giovane signore. Il giovane signore è all'interno del palazzo. Mio figlio, Inosuke, è andato a salvarlo. Quindi starà bene, ma non si sa mai. Il giovane signore può aver bisogno di te, Shinobi Errante. Va da lui! Vabbè, come dirvi no? Spero che non ci sia un altro boss fight, perché... Oh, ma... De, ma De! Ma che fai? Oh! Voi, il giovane signore, fossi in voi, non entrerei lì dentro. Quelle tecniche illusorie, solo un seme della percezione può disperderle. Ecco, prendete. Non è molto, ma è tutto quello che ho. Cosa vuol dire, seme della percezione? Immagino che io la debba mangiare incondizionatamente. Mangiamolo. Quindi, ho mangiato il seme della percezione per una beata fama. Come faccio? Raga, perché non è aperto? Ascoltate. Ho c'era la sti... Come faccio ad avviare, ragazzi? Sono bloccato. Di là sono bloccato dal serpente, qui sono bloccato da questo. Che cazzo devo fare? No, è impossibile. Sei chi io? Ascoltate, ho c'era la sti... Senti, vado dal tipo. Quando non so che fare, vado dal tipo. E dico sei chi io. Vediamo, cazzo. Sono felice. Sono felice. No, no, se mi ti zucca. Che amarezza. Come Dio. Che devo fare? Che devo fare? Raga, non ho idea di che cosa devo fare. Scherzo a parte. Che devo fare? È usato fare... Ascoltate, ho perso anche tutti i semi. Sarò stronzo. Vuoi che ci sia qualcosa. Scusate, questo è un rettaggio di... Scusate, illusoria. No, guys. Che devo fare? Eh, mamma mia. Sembra di essere a Napoli ai tempi d'oro. Comunque... Ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta uccidere anche sto stronzo. Perché sono il meglio. Bon. Ammazzati tutti. Andiamo... Ragazzi, c'è un ciavaccio. Mi chiede veramente una capacità di... Self concentration. Che è incredibile. Tutto questo lo sto facendo per andare da... No, c'è un altro lì. No. Perché non me lo locca? Perché non me lo locca? Loccamelo! Ora me lo cazzo. Eeeh, porco giù. Oh, hai rotto il cazzo, eh. Cioè, ma guarda te. Oh, quando partite male... C'è un cazzo da fare. Ma meglio fare così. Oh, no. Infatti che... Passando di qua... Poi sono famosi sti giochi, però. I nano. Oh, no. 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 Merda, è questo chi è? Oh cazzo, ce l'ho avuto con ogni boss, ma se no sta avvenzando Per cazzo che mi faccio questo qui in boss, ma ragazzi, lo vivo già Se vado qui E gli rubo tutto E gli rubo tutto Eh, master, potresti farlo Eh, potrei Vai, 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 vai Oh, ma... Hai rotto il cazzo Ah, ma... non l'avevo vista Oh cazzo Via, 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 via No, ti piace per io Eh, e adesso ti ho staccato la testa Olè Porca troia, se è difficile Oddio Allora, vediamo che cosa abbiamo preso Abbiamo preso una cosa specifica Che era... Che era... Allora, vediamo che cosa staccato la testa Allora, vediamo che cosa staccato la testa Allora, vediamo che cosa staccato la testa Dove trovare il modo di abbatterlo senza farmi troppi sbatti E intanto se sta avvicinando Quella palla Allora... Passa avvicinando o no? Non lo capito, sapete Sì, non è vero. Ormai gli estremi stavolano, non ce l'ho vero qua Ok Eccoci qua Padre Sei tu, Temo Di aver commesso uno smaglio, forse Inizio a pagare il prezzo del tempo, no? Non ti curare Delle mie ferite Inutile È troppo tardi Lupo, prendi Prendi Questa Questa è? È la chiave del tempio segreto Nel palazzo della tenuta L'erede divino È lì Passare dal davanti è impossibile Non supereresti mai le fiamme Sì, ma forse le rupi proprio qui fuori Sì Torna all'ingresso della tenuta e cerca una via laterale lungo le rupi Entra dal retro Attraverso il cimitero È la tua via d'accesso Ho capito Lupo Ricorda sempre Ricorda sempre Il codice di ferro Sì Il signore è assoluto Lupo Proteggi il tuo signore con La tua vita Un'altra Padre Vato alla mia sese a tra... Ci penso io ole Ok. Bon, allora. Io non starei più a entrare da lì. Per il giro. Almeno abbiamo il tempo vicino. Facciamo il viaggio rapido in orio. Tanto abbiamo già sbloccato. Paradossalmente abbiamo fatto prima un boss. Adesso so che c'è un altro boss. Ma vediamo. Perché non si vive di solo bene. Ciao. Cioè potremmo ricordarci che lì c'è un altro boss. C'è il... Ricordate che lì c'è un boss opzionale. Bisogna vedere se volete farlo o no. Io ho preso la roba e me ne sono andato. Si può fare anche così. Non è... Cioè d'altronde è un gioco stronzo così. Non dovete per forza di cosa farlo. Ciao. Ci per farlo. È insicinza. Cosa E via L'unica cosa è che adesso non ho più i Non ho più i I semi Quindi non so che cazzo posso farci Spero che Cioè anche loro Porca troia Che palle Eh no non me l'ha dati Vabbè dai proviamo Inoltre di qualcosa Dovremo por morire no Casomai farò un editing Faremo un editing copioso Padre Madre Le farfalle Tutti quanti Sono svaniti Mio sere Tecnica illusorica Mi è passato di tempo Figlio del buffo Valena Andate Chi Sei Devi andare Adesso Sì Sì Ho Preveduto tanto di quei bei cazzi Prima volta che repate come lì Ecco Allora figlio del buffo Vogliamo danzare Mamma mia Non vi sto a chiedere se più Non vi sto a chiedere se più Voi Sì Voi 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 Voi